Diverse segnalazioni dei residenti in questi giorni sono arrivate in merito all'installazione di canestri da basket nelle piste polivalenti di Fano. In particolare, la ditta incaricata dal Comune sta provvedendo a installare i pali di sostegno nelle piste di San Lazzaro, nei pressi del Palazzetto, a Fenile in Via Cena e in Via Boccioni, zona Paleotta. Ad estare un'attenzione particolare di un nostro reporter di strada invece riguarda l'installazione presso la pista di Gimarra su Via Cena, nel quale i pali di sostegno dei canestri da basket sono stati collocati in mezzo alle due porte da calcetto presenti nell'area interessata rendendo queste ultime, da come ci evidenza il cittadino, inservibili. Su questa questione è intervenuto prontamente il Comune con il suddetto assessore preposto attraverso una nota stampa enunciando esplicitamente che l'intenzione dell'ente proprietario è quella di mantenere lo spazio sportivo utilizzabile per la pratica di entrambe le discipline in quanto il canestro è già stato installato sul cemento a fondo idoneo. A breve interverrà un fabbro per sistemare le due porticine portandole davanti al palo in modo da mantenere, conclude l'assessore, tutti e due gli sport in totale sicurezza.